Ecco che siamo qui in attesa del Pullman, arriviamo all'andalanza le luci della polizia, ecco qua, arriva la polizia, presentiamo, ecco qua Pullman. Ho lasciato da abbastanza volte di più cose da aspettarlo. Ok, una volta passato il Pullman, la folla si dirige verso lo stadio. Ok, una volta passato ora.